Amici di contatto, questa sera le nostre telecamere sono alla Smorfia C'è per una festa speciale per la nuova inaugurazione Questa sera con noi ospiti da Made in Soda, quindi restate con noi e non cambiate canale Grazie a tutti Amici di contatto, ospiti speciali direttamente da Made in Soda, gli Artetica, buonasera Ciao Battiti, Battito salutare gli amici di contatto Sono incazzato con quelli di contatto che ogni volta ci mandano le presentatrici sempre più abiti Siamo più secchi, ma ormai siamo degli amici di contatto, ogni volta facciamo un'intervista, le presentatrici più piccole Grande successo da Made in Soda, continuano i vostri personaggi che sono fenomenali, stanno spopolando veramente in maniera eclatante Che succede? Siamo all'inaugurazione, non dici di nevo Anzi a proposito, presentiamo anche Alberto Prego Alberto Ciao Come mai la scelta di questi personaggi? Perché sono simpatici e mi piacciono tanto Spondi bene a Bet Spondi bene a Bet Allora, martedì, ultima puntata a Made in Soda, giusto? L'ultima 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 No, perché in realtà dovevano essere otto, invece sono dieci E tanti parate Oh, grazie Madonna, ci capiamo Cosa avete preparato per l'ultima serata? Ma, visto che i personaggi sono nuovi Sto avendo proprio E poi mi porto questa pianta Arrivata a questo punto Ti piace proprio tanto? Sono affezionata Non ho mai capito perché all'inaugurazione si portano le piante Brutto, accusivo, non lo so Aspetta, no, ma Allora, voglio farvi una domanda sulla location Vi piace? Cosa ne pensate? Qua? Sì È bello, è bellissimo Venite, venite tutti quanti che si sta bene Si mangia bene È molto bello E poi dovete venire che ve lo diciamo noi Venite numerosi, ma non buttate le piante Tonì, ma già, Zoom Veramente Salutiamo gli amici di contatto Di contatto, infatti Ciao, battiti, vi vogliamo bene Cuore saluta gli amici di contatto Codidino, vita Codidino Vai, viena Vabbè, tu, pure tu, vai Contatto Contatto Io facciamo ogni posto fatto Mi sembra non credito Che cazzo Amici di contatto Eccolo qui Il nostro carabiniere Ballerino Direttamente da Made in Sud Tony Tony figo Ciao ragazzi Buonanotte, buonasera Insomma Non so L'orario Come va, tutto bene? Assolutamente Sì A me, a te? Ma io quando ti vedo Va sempre bene No, va tutto bene Grazie ragazzi Un po' stanchi Ma va bene Grande, siamo forti E appena subito il tuo show Qui alla Smorfia Questa sera Cosa ne pensi della location? Molto, molto bello Tra l'altro Una nuova gestione Devo ancora assaggiare Ma mi fanno mangiare tra un po' Quindi dopo vi dirò come si mangia Però so che si mangia benissimo Che sono degli amici qua a mangiare Si mangia stradio benissimo Va venite La prima serata l'hanno fatta Gratis per tutti Chissà, vorrei la seconda magari Magari vorrei la seconda Fanno gratis Vedete lo stesso Senti Voglio farti una domanda Una domanda mia personale Una curiosità Sono qui Sono qui Scusami Allora voglio chiederti Ti senti più ballerino o carabiniere? Eh, guarda Con questa musica No, non tocchiamo quella parola Carabinieri Anzi, facciamo un grande applauso ai carabinieri Che fanno un lavoro Molto, molto, molto Più serio del mio Io mi sento più ballerino Ovviamente Non male Carabinieri è una cosa seria Sono un carabinieri ballerino Il ballerino è un carabinieri È vera la storia di tuo padre? Che non ti voleva far ballare? Assolutamente No Anzi Mio padre è un artista Anche lui Mio padre mi ha sempre detto Vai Fai questo mestiere Perché tu ce l'hai Ce l'hai E quindi diciamo Che la parodia è quella Che mio padre non è vera Assolutamente Anzi voleva che faceva questo mestiere Bene, grazie Grazie a voi E soddisfatta E ancora vale niente Contatto Amici di contatto Tony Figo Contatto Amici di contatto Ci troviamo con I due proprietari Della Smorfia C'è Sono due fratelli Giusto Gianna e Alberto Buonasera E benvenuti in contatto E sono Gianna La nuova proprietaria Della ristorante La Smorfia C'è Lui è mio fratello Alberto E vi ringraziamo Per questa serata No, ringraziamo noi voi Per questa bellissima serata Avete ospitato anche Gli artisti di Made in Sud Abbiamo visto Gli Artetica E Tony Figo Grande festa Veramente questa sera Per la nuova gestione Vero? Sì, la nuova gestione E abbiamo iniziato Questa avventura E speriamo di non deludervi Va da bene E vi aspettiamo In massa In tanti Allora quindi Diamo delle informazioni Importanti Per tutti quegli amici Che da casa Vogliono raggiungervi E vogliono chiedervi Informazioni Vogliamo chiedere ai nostri amici Dove ci troviamo precisamente? Ci troviamo a Caserta Località Centurano Via Giulia 60 La Smorfia C'è La nuova gestione Dei Fratelli dell'Aurentis Vi aspettiamo Sono accette anche Le prenotazioni Quindi lasciamo anche Un numero telefonico Per tutti quegli amici Che da casa Vogliono chiedervi informazioni Allora per le informazioni 0823 341387 Lasciamo anche una pagina Facebook La Smorfia C'è Perfetto Allora parliamo della stupenda struttura Che la Smorfia C'è So che siete propensi Ad ospitare anche eventi privati Vero? Comunioni Compleanni Abbiamo un ampio giardino Un parco gioco per bambini Tre sale ampie Un spazio all'aperto Giusto per l'estate? Sì esiste un spazio aperto Un giardino Giochi per i bambini Animazione E robe vari Grandi e piccini La Smorfia C'è E' aperta Assicurato Assolutamente sì Alberto per quanto riguarda Invece la ristorazione? Allora la ristorazione Noi siamo specializzati Sulla pizza artistica Perché abbiamo una maestria Che ci fanno delle pizza in 3D Sono molto buone Sono le pizze in 3D? Viste in 3D dimensioni Ah E quindi sono ripiene Hanno delle forme Sono ripiene in base ai gusti Che ci sono Delle specialità Del nostro pizzaiolo Abbiamo la ristorazione Siamo specializzati In pesce Pescatto del giorno Soprattutto sui risotti Che abbiamo dei risotti particolari Tipo risotto alle fragole Risotto alle foglie d'oro Ostriche Champagne E tanti altri tipi Il nostro chef Cura proprio queste particolarità Quindi amici di contatto Bando alle ciance Non stiamo qui a spiegare Tutti i piatti prelibati Che si costano Solo qui alla Smorfia C'è perché ci vorrebbe troppo tempo Ma vi invitiamo In tanti numerosi E vi ricordiamo che Si accettano prenotazioni E c'è anche la pizzeria da sport Giusto? Vi aspettiamo in massa Ah Vi aspettiamo in massa Mi raccomando Chiamateci E arrivate qui alla Smorfia C'è Grazie a te Gianna Grazie a te Alberto Noi ci salutiamo Lo facciamo a modo nostro Dito indice C'è il mio 3 ciao contatto 1,2,3 Ciao contatto 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 Grazie a tutti Amici di contatto insieme a noi Gerry Fusco con lui che si è occupato Della programmazione e della serata di stasera Ospitando gli artisti di Made in Sud Gli artisti Gaittori Figo, ciao Ciao Rontotto Come stai? Bene Ci ritroviamo a tutte le inaugurazioni Ormai siamo di tradizione Assolutamente sì Che bello qui fuori Siamo all'aperto Amici di contatto Come abbiamo detto prima Lo ripetiamo La struttura è ben propensa Ad ospitare anche eventi privati Quindi c'è ampio spazio aperto Ma parliamo della programmazione Che avverrà qui Alla Smorfia c'è Sì infatti Non può mancare la risata Amici di contatto Amici di contatto Noi vi aspettiamo qui in tanti Gerry Diamo qualche informazione Qualche pagina Facebook tua Per tutte quelle persone Che ti vogliono chiedere informazioni Per quanto riguarda gli artisti Sì va bene Come ben sapete Officine Spettacoli SR La nuova società Ci sta sia la pagina Facebook Sia il sito Tra poco Faremo anche l'inaugurazione Al nuovo ufficio A via Reggia di Portici Numero 9 E poi Vedrete tante sorprese Voglio salutare adesso Contatto Ti devo scappare Che fido lo spettacolo Contatto Abbiamo Gianna Accanto Che vuole Dedicare un piccolo discorso A tutte le persone Che sono qui Presenti questa sera Buonasera a tutti Per prima cosa Ringrazio tutti i presenti Che hanno voluto festeggiare Stasera con noi Mi presento Per chi non mi conosce ancora Sono Gianna D'Aurentis Con mio fratello Alberto Siamo i nuovi proprietari Questa avventura La vogliamo vincere assieme a voi Quindi aspettiamo Un vostro ritorno Con parenti e amici E sicuramente Non vi deluderemo Grazie di tutto Grazie a te Gianna Amici di contatto Come abbiamo detto Vi aspettiamo Numerosi Qui alla Smorfia C'è Fantastica Questa torta Che ha una scritta sopra Finalmente Arriva l'arte E il prodotto Di prima qualità Una frase che rispecchia Appieno La Smorfia C'è Giusto? Certo Amici di contatto Vi aspettiamo I numerosi Mi raccomando Eccoci qui arrivati Lo stapo Della bottiglia Auguri amici Si brinda Vi aspettiamo numerosi Qui alla Smorfia C'è Per il momento Del brindisi Tantissimi amici Tra cui anche Che gli artistica Direttamente da Made in Sud Amici vi aspettiamo Qui alla Smorfia C'è Mi raccomando In tanti I wish I could make it easy Easy to love me Love me Still I reach Find a way Stuck here in between I'm looking for the right words to say I'm slowly drifting Drifting away Wave after wave Wave after wave I'm slowly drifting Drifting away And it feels like Drowning Pulling against the street Pulling against the Amici di contatto Qui dalla Smorfia C'è È veramente tutto Avete visto Iartetica E Tony Figo Direttamente da Made in Soda Prima di lasciarvi però Voglio ricordarvi dove Potete continuare a seguirci Sul nostro sito www.contattotelevision.it O aggiungeteci Sulla nostra pagina Facebook Contatto Television Napoli 3 O ancora sui nostri Canali Digitali Terrestri 603 e 693 Da Anna Gentile Veramente è tutto Un bacio Al prossimo